Allora, tra il serio e il facetto, quindi adesso faccio una recensione abbastanza stupida di questo qua, si chiama inculinati Immaginiamoci la profondità del gioco, ok? Perché magari mi porta fortuna, perché poi vi spiegherò più avanti Non spoilerò troppo, quindi qua c'è roba di Medioevo e c'è la squadra delle Volpi, qua è troppo grande C'è la squadra delle Volpi contro la squadra dei Cori, ah, tipo Robin Hood, ok, perché è il Medioevo, quindi c'è Robin Hood di cosa, come si chiama Cuglielmo, la Disney, e poi qua c'è un Sigismondo, roba comunque del Medioevo, qui c'è anche Yoda Vediamo il trailer, poi c'è Madame Hildegard, Hildegarda, Hildegarda, Sir Elliot Goffredo, si chiamano i nomi del Medioevo, Goffredo, Richard Vediamo il trailer, si chiama inculinati, vediamo Seven facts about the Inculinati Who are the Inculinati? The Inculinati travel the lands and battle one another by drawing beasts with the living ink on the pages of Medievo manuscripts The living ink is a precious substance You is up to draw an army of your own beasts and replenish it when staying your foes You are crawling in this game, really? Skillfully command your beasts, use positioning to advantage and attack your enemies Be sure to harness your beasts special abilities Is this game a beast? Is this strategy game? Time your attacks, put deadly precision Time is everything You got that one, right? The hand that wields the quill So not only some beasts but also deal damage Shout beasts around and heal the wounded with a gesture Did I just see a donkey will trump it up its a** Empark on a journey Visit unique locations Collect gold and prestige Build your own bestiary Defeat Medieval superstars Collect perks Maybe one day you will even talk to a goose Oh, you can duel other ink linati in a hot seat mode Choose the right manuscript for you Set your preferences and duel until all ink is gone I'll duel a hot seat and living ink out of you Ah, money to worry Your painting of what it is is mine You think Latin makes you sound fancy, eh? Hellish fire or a deadly clay Even the most vicious batten will come to an end Those who live by the ink die by ink But the story lasts forever I'm in Where do I get it? Do I need to, uh, sigh up for it? See what I'm in there? A curse on thee, oh pen Just let me play Ech? Sì, sì, sì Non saprei più cosa voglio portare questi videojocchi Però è simpatico C'è anche Dante Alighini Cioè praticamente giocate al medioevo E non lo so Fermate l'apocalisse E poi Un nuovo videojoco Quindi Va bene S'ho 보enda Alla prossima Ciao